Un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Una Voce delle Dolomiti, la rubrica di Radio ABM che vuole dare appunto spazio ai protagonisti del territorio della provincia di Belluno. Oggi siamo nel comune di Ponte nelle Alpi e la protagonista di questa puntata di Una Voce delle Dolomiti è la vice sindaca Lucia Darold. Diamo quindi il benvenuto alla rappresentante dell'amministrazione comunale del comune di Ponte nelle Alpi, intervista che in questo momento di pandemia non possiamo fare direttamente negli studi di Radio ABM ma le tecnologie ci vengono in aiuto e quindi possiamo sfruttare anche le distanze. Incominciamo immediatamente quindi con la prima domanda che voglio porre alla vice sindaca del comune di Ponte nelle Alpi, Lucia Darold, ovvero siamo al secondo anno di lotta a questa pandemia da Covid-19. Qual è la situazione nel comune da lei rappresentato? Ovviamente parliamo di Ponte nelle Alpi. Attualmente il numero dei positivi nel comune di Ponte nelle Alpi è molto basso e negli ultimi giorni non ci sono stati nuovi casi. Siamo molto soddisfatti anche del numero della popolazione vaccinata che si aggira intorno all'80%. È un dato molto positivo questo e lo abbiamo potuto raggiungere anche grazie alle sedute di vaccinazione che hanno organizzato i nostri medici di medicina generale con la collaborazione dell'amministrazione comunale che si sono impegnati affinché il maggior numero di cittadini potesse essere vaccinato nel più breve tempo possibile. Siamo nel mese di settembre, Covid-19 e scuole a Ponte nelle Alpi, pronti a ripartire. In che modo, vice sindaco? La scuola è pronta a ripartire come lo era anche lo scorso anno. È stato un anno non semplice ma grazie alla collaborazione di tutti, dalla nostra dirigente scolastica, ai docenti, al personale ATA, alle famiglie e soprattutto i bambini e i ragazzi la situazione è sempre stata sotto controllo e gestita nel migliore dei modi, attuando tutte le linee guida di prevenzione dal Covid. Qualche settimana fa abbiamo avuto un incontro, come avviene ogni anno con l'Istituto Comprensivo e il Comune di Soverzene, con il quale abbiamo una convenzione per la gestione dei servizi scolastici e abbiamo condiviso gli ultimi lavori da fare, proprio per l'avvio dell'anno scolastico e i bisogni dell'Istituto per la ripartenza e le linee guida di prevenzione, mantenendole invariate rispetto allo scorso anno, anche per quanto riguarda i servizi di mensa e di trasporto scolastico. Siamo quindi pronti per ripartire, sicuramente meno impreparati rispetto allo scorso anno, e con la convinzione che la scuola deve proseguire in presenza, perché bambini e ragazzi ne hanno risentito tanto della situazione creata dalla pandemia e vogliamo sicuramente evitare ulteriori chiusure. Pandemia o no, le attività del Comune devono comunque andare avanti. Ci puoi illustrare i principali progetti che la sua amministrazione ha concretizzato nell'arco del 2021? Nonostante la pandemia, sono molti progetti avviati, terminati o che termineranno entro la fine dell'anno. È terminata la riqualificazione dell'area ex comedy e la piazza della poesia, con l'inaugurazione della Decathlon. Stanno proseguendo i lavori per la sistemazione della stazione ferroviaria, proseguono inoltre i vari progetti in ambito sociale, il sostegno alle famiglie e alle imprese che hanno subito delle perdite durante la pandemia. Ad esempio il sostegno con i buoni spese, il sostegno economico per il pagamento della Tari. Non sono mancati e non mancano poi i vari interventi di manutenzione nelle varie frazioni. Un'altra domanda che vogliamo porre alla vice sindaca del Comune di Ponte nelle Alpi, Lucia Varold, riguarda la cultura. Cosa avete fatto o avete potuto fare, ovviamente sempre, purtroppo per questa presenza della pandemia in atto nel 2021? All'inizio del 2021 avevamo in programma diverse attività culturali che causa pandemia, come potete immaginare, abbiamo dovuto sospendere. Come biblioteca civica abbiamo comunque organizzato degli incontri culturali, come presentazione di libri, letture animate o eventi che hanno affrontato temi sociali, purtroppo online, riscontrando però che non è la stessa cosa degli incontri fatti in presenza. Durante la primavera, fortunatamente, abbiamo potuto avviare qualche attività in presenza e all'aperto. Durante l'estate, presso la Piazza della Poesia, abbiamo organizzato la Rassegna Stravagaria, una rassegna di eventi culturali rivolti ad un pubblico molto ampio, bambini, famiglie, adulti. Abbiamo inoltre inaugurato la riqualificata scuola di musica e gli affreschi fatti dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo con l'artista Vico Calabro e la collaborazione appunto degli Amici della Musica. Il 26 giugno, una data molto importante, perché abbiamo inaugurato il Piccolo Teatro Piero Bon a seguito di importanti interventi di adeguamento sismico e strutturale e quest'autunno avvieremo la stagione teatrale. Il tempo a nostra disposizione per questa puntata di Una Voce delle Dolomiti sta per volgere al termine, ma più che una domanda chiediamo un saluto al Vice Sindaco del Comune di Ponte nelle Alpi, Lucia Darold, da portare a tutti i suoi concittadini, a tutti i suoi pontalpini residenti all'estero. Prego Lucia. Concludo salutando i pontalpini residenti all'estero che ci stanno ascoltando con la speranza che possano sempre essere orgogliosi della comunità in cui sono nati, in cui sono cresciuti e che magari in un futuro li potrà anche riaccogliere. È davvero tutto per questa edizione. Con Una Voce delle Dolomiti, noi ringraziamo la Vice Sindaca del Comune di Ponte nelle Alpi, Lucia Darold, per il tempo che ci ha dedicato. E auguriamo a lei, al Sindaco Paolo Vendramini, a tutta la squadra dell'Amministrazione Comunale di Ponte nelle Alpi un buon lavoro anche per questo 2021 e anche per il prossimo 2022. Noi ci risentiremo puntuali come sempre domani con altri protagonisti della provincia di Belluno. Buona giornata a tutti voi in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Una Voce delle Dolomiti, la provincia di Belluno protagonista.